È andata bene ieri, no? Draghi si è alzato, è andato via, ha detto di più, non posso concedere e probabilmente si va verso forse uno sciopero. Ma direi che il confronto è appena iniziato, anche perché la rottura credo non possa essere considerata definitiva. C'è il passaggio in Parlamento, ci sono delle osservazioni che verranno, secondo me, anche riproposte. C'è bisogno di tenere presente quale è lo scenario dal quale partiamo. Partiamo da una misura populista come quella di Quotacento, che ha soprattutto penalizzato le donne e non ha realizzato quelli che erano i suoi obiettivi, cioè quelli dell'incremento occupazionale, anzi, lo ha ridotto rispetto al ricambio. Posso dire una cosa a proposito di donne, che ieri è passata una legge importante, quella sulla parità salariale. Direi di sì, anche perché la ministra che l'ha portata avanti, Elena Bonetti, che è anche del mio partito, quindi sono molto orgoglioso che sia stata portata avanti. E anche la Gribaudo del PD, insomma, c'è stato tutto un lavoro... Certo, certo. No, no, ma tutte le donne che hanno, io dico il titolo dal punto di vista del governo, ma è chiaro che tutte le donne che hanno lavorato, Chiara Gribaudo, che è una collega molto brava, è stata in Parlamento protagonista di questa battaglia. Ma comunque è una legge che va nella direzione nella quale dovrebbero andare anche le pensioni, perché è evidente che noi abbiamo in questo Paese una difficoltà per quanto riguarda le donne, soprattutto per ciò che riguarda la continuità contributiva. Quindi per le donne e per i lavoratori più fragili, quelli esposti ai lavori più usuranti, sicuramente bisognerà fare un intervento che garantisca anche la sostenibilità. Dopodiché noi veniamo da 11 miliardi spesi per quota 100 per far andare in pensione. Figuriamoci, loro hanno tutto il diritto di aver accesso a questo tipo di misura, di persone che però magari nel sistema sanitario sono state addirittura richiamate in servizio, visto che poi mancavano i medici nel momento della pandemia. Quindi si tratta di capire come oggi noi realizziamo, da un lato la sostenibilità, che credo sia la preoccupazione principale del governo e di Draghi in particolare, visto che dobbiamo affrontare un lungo percorso sia per la spesa del PNRR, sia per l'accumulo del debito che questo ha generato, e dall'altro garantire un'equità. Credo che da questo punto di vista il lavoro...